Ben ritrovati con una nuova edizione dell'ETG locale di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie che arrivano dalla regione e dal territorio. Partendo dalla cronaca e da quanto successo a Roma nella serata di ieri, dove si è verificato il terzo omicidio negli ultimi cinque giorni. Infatti ieri sera, pochi minuti prima delle 19.30, un uomo di 51 anni, LF, e le sue iniziali è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Gli spari hanno raggiunto l'uomo mentre si trovava ad un distributore di benzina in via dei Ciceri all'angolo con via degli Angeri al quadraro. Secondo quanto si apprende, due persone a bordo di un motorino si sarebbero avvicinate ed uno di loro avrebbe fatto fuoco colpendo il 51enne alle gambe e al torace. I due sono poi fuggiti senza lasciare traccia sul posto i poliziotti della squadra mobile e gli uomini della scientifica per i rilievi. Ci spostiamo a Cassino, dove ieri un uomo pretendeva un sostegno economico dagli assistenti sociali del comune della stessa Cassino. senza che ne avesse diritto. Sono stati momenti di panico ieri mattina all'interno del palazzo che ospita il terzo settore dove l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze. La sua richiesta di denaro contante non è stata accolta semplicemente perché per poter consegnare dei soldi c'è un iter ben preciso che avviene solo ed esclusivamente dietro domande e derogazioni da parte dello Stato. Il cittadino sembrava non voler sentire spiegazioni e per questo ha iniziato a inveire e gridare contro i presenti. A riportare la calma sono stati i carabinieri intervenuti nel giro di pochi minuti sul posto. Ci spostiamo a Latina, dove ieri è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere Damiano Murgia, che è il 41enne di aprile arrestato a settembre dello scorso anno dopo che nel suo terreno era stata scoperta una coltivazione con 9.000 piante di canapa indiana. L'uomo ieri mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti ed ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. La scoperta era stata possibile grazie ad un'operazione di controllo del territorio effettuata dalla Guardia di Finanza anche con mezzi aerei. Le piante corrispondenti a circa 10 kg di droga erano coltivate su un terreno agricolo di 40.000 m2. Parliamo di politica perché ieri il Consiglio regionale ha eletto Antonio Aurigemma, ha detto Antonello come nuovo presidente. Aurigemma è stato eletto al secondo scrutinio con 36 voti. sono state 15 invece le scade bianche. La maggioranza richiesta per l'elezione del nuovo presidente era di 31 consiglieri mentre invece alla prima chiama era di 34. In quell'occasione Aurigemma aveva ottenuto 33 voti validi e 18 scade bianche. Aurigemma è nato a Roma il primo giugno del 68 ed è la sua terza legislatura nel Consiglio regionale dopo quella dal 2013 al 2018 e quella dal 2018 al 2023. È stato eletto nelle liste di Fratelli d'Italia nella circoscrizione provinciale di Roma. Sempre a Roma, nei quartieri Pantano, Graniti e Grotte Celoni sulla metro C, Tiburtina sulla metro B e Termini sulla metro A, sono solo alcune delle stazioni inaccessibili o parzialmente inaccessibili a causa delle scale mobili ferme e alcune per guasto, altre per mancata manutenzione che rende impossibile utilizzarle. Il problema principale riguarda le manutenzioni. Infatti Atac aveva pubblicato un bando diviso in due lotti per affidarle, ma uno dei due, quello che comprende la riqualificazione di una serie di scale mobili previste nell'ambito delle opere per il Giubileo per la linea A, non ha ricevuto offerte. L'azienda è stata quindi costretta a pubblicare il rinnovo della gara d'appalto per il lotto con la speranza che questa volta riceva delle offerte. Restiamo nella capitale perché ci sarebbero anche alcuni CAF nelle truffe per percepire il reddito di cittadinanza anche a chi non ne aveva avuto diritto. In particolare un uomo è stato indagato dalla Procura di Roma per aver permesso di ottenere abusivamente il reddito di cittadinanza da almeno 100 persone. Nel cassetto del suo ufficio sono stati ritrovati diversi moduli per la richiesta di percezione del reddito pronti per la consegna ai clienti con l'autocertificazione piena di dati falsi sul reddito dichiarato e figli a carico. L'indagato e un impiegato e le indagini sul suo conto hanno portato anche all'inchiesta su 130 persone per falso e indebita percezione di erogazione in danno dello Stato italiano. La presunta truffa sarebbe cominciata già dal 2019 subito dopo che era stato introdotto il reddito di cittadinanza ed è proseguita poi fino al 2021. Questa era anche l'ultima notizia vi ringraziamo per averci seguito e vi lasciamo alla programmazione di Canale 81 Lazio.